Il camper è una vita da social che rappresenta un po' l'attenzione della poesia al mondo dei giovani, al mondo dei social e a tutti i rischi della rete. Sul camper sono presenti attrezzature, si fa attività con i ragazzi delle scuole per avere un uso consapevole dei social media. La poesia postale, la poesia stradale in particolare fanno attività con i ragazzi delle scuole per avvicinarli alla rete, per scoprire come utilizzare i social media e anche capire i rischi del cyberbullismo che spesso si nasconde proprio dietro l'utilizzo dei social. Siamo qui a Termoli, Termoli in estate, siamo qui a punto dell'arrivo dell'estate, spesso è crocevia, è terra fertile per azioni criminose, soprattutto nel periodo estivo, è importante intensificare i controlli. Sì, con questo è intanto una presenza importante qui a Termoli. Per l'estate stiamo predisponendo un piano di intensificazione dei controlli, anche con l'invio di personale da parte del Dipartimento dell'APS, per cui cercheremo di far vivere un'estate tranquilla a Termoli e ai turisti.